Questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Benissimo, salve a tutti, benvenuti a questo Wake Up America, consueto appuntamento di lunedì pomeriggio, come al solito andiamo ad analizzare i mercati americani. Vi do un saluto da Cristian Ciuffa, saluto per ora Alessio, Barbara Donato, Lino, state arrivando sempre numerosi e se dimentico qualcuno nel frattempo ditemi, benvenuti. Allora, innanzitutto soliti convenevoli con Cristian Ciuffa, ipochiocciolacristianciuffa.com che è la mia email, qualora ci fossero dubbi o analisi che volete approfondire o cose particolari da chiedere, potete benissimo inviarmi un'email e io rispondo nel più breve tempo possibile. Andrea Di Marco, chioccioaxtb.it, mio collega e anche responsabile del XTB Italia, xtbofice, chioccioaxtb.it. Vi ricordo il solito disclaimer, avviso sull'esonimo delle responsabilità nel webinar, quindi qualunque parere, notizie, ricerca, analisi, prezzo, informazioni forniti non costituiscono consigli di investimento e sono solo a finalità educative in ambiente demo. Il CD non si assume responsabilità di perdito o danno, contesi mancati profitti che potrebbero sorgere o dipendere indirettamente o direttamente da queste informazioni. Il capitale è a rischio ma XTB ovviamente ha quello che vi dico sempre, per la protezione del capitale, quindi non potrete andare a perdere maggiormente rispetto a quello che avete investito. Andiamo a vedere innanzitutto una nota fondamentale che vi volevo subito andare a farvi vedere. Andiamo a vedere un attimo il sole 24 ore, stamattina è uscita la notizia con Facebook, con il rischio della sicurezza. Vado un po' sull'azionario perché stiamo parlando appunto di Stato americano, quindi vediamo anche dopo varie vicissitudini che si hanno avuto con Facebook, con gli Stati Uniti, con tutta Europa, quindi il caro padrone della Facebook che è stato di nuovo per violazione della privacy, eccetera, eccetera, perché sono stati violati delle fughe di informazione, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, non sono stati molto, ecco, come si suol dire, non è stato affabile il mercato con la notizia di Facebook, infatti adesso vi faccio vedere un po' che cosa è successo. Dopodiché ci sono state anche notizie riguardanti, ecco l'America dice dopo dieci anni chiude il dialogo economico con la Cina, quindi ci sono state delle cose che comunque hanno intulzato il mercato americano. Una cosa anche per quanto riguarda la Russia, che ha fatto le elezioni, si sono concluse le elezioni che ha vinto Putin, quindi anche di nuovo questa, ecco, tutte cose che comunque vanno a influenzare un po' il mercato americano. E poi, dulce e simpundo, quello che è successo da il crack di Toys R Us. Io, con tutte queste belle notizie che vi faccio, quindi anche, diciamo maggiormente dal punto di vista economico, sia per quanto riguarda i tazzi, con quello che riguarda appunto la Cina, che con, vedete, che con anche queste cose che sono usciti, no, nel, in questi giorni qui, quindi sono tutte cose che hanno inciso molto sul, sia anche sull'euro-dollaro, sui mercati in generale, e anche su la volatilità implicita che è rappresentata dal VIX. Vedete? Questa è stata la candela delle, praticamente, delle ultime ore, che ha fatto un, addirittura, se andiamo a vedere, un bel più 1,71, addirittura chiusura, apertura, quindi, parecchio, parecchi pips, 1,78, quindi stiamo parlando della candela di oggi, stiamo sul giornaliero, quindi è una candela di oggi, vedete che bella apertura che ha avuto il VIX, quindi sta aumentando un po' anche la, la volatilità implicita, vediamo come Facebook è andata a crollare con questo gap di, ecco, guardate, adesso vi faccio vedere un pochino, perché questa è la chiusura della candela, andiamo a vedere l'apertura della candela, un gap, praticamente, è 966, 43 pips, che stiamo parlando di, è più di un una, un gap di mercato, guardate che rettangolone che, che c'è stato, veramente una, una sorta di, di, puntata al ribasso dopo la notizia di, di, di Facebook, questo come, come è stato, diciamo, presentato un po', eh, il mercato in queste ore, come, come ha vissuto, ecco, diciamo, eh, il mercato americano queste ultime euro, andiamo a vedere anche, eh, sull'aspetto anche del dollar index, vedete, vi ricordate queste strutture di prezzo che io vi ho fatto vedere un po' di tempo fa, io, poi se, se avete dubbi o, eh, o cose da dire, me lo potete dire in qualsiasi momento, vedete come, eh, questa struttura di prezzo che sta tra, eh, i, praticamente, stiamo parlando di, eh, tra gli 89, diciamo, e, e i 90, quindi stiamo parlando, eh, di una bella struttura di prezzo che si è, che si è venuta a formare, perché vedete, qui come il mercato ha lateralizzato, sta facendo, eh, se andiamo a vedere, spostiamoci sul quattro ore, per farvi vedere, eh, come, eh, il mercato, eh, ha preso, queste notizie, come gli investitori, vedete, cosa c'è stato, nelle ultimi, nelle ultime settimane, eh, vedete come il, gli investitori hanno, eh, movimentato il mercato al ribasso dell'euro, prospettando che cosa? E noi, eravamo, eh, c'eravamo fermati, scorse settimane, con questa, eh, con il ritorno in questa fascia, vedete, poi, io, eh, faccio analisi tecnica, vera e propria, quindi vedete come, come le strutture di prezzo, poi, vengono ritestate, più volte, guardate questa struttura di prezzo, qui, eh, ve la faccio vedere, perché, è incredibile come questa struttura degli 89 e 40, come è stata sfruttata moltissime volte, guardate qui, guardate qui, guardate qui, qui, guardate quanto il prezzo ha rimbalzato, qui l'aveva rotta con questo gap, è rientrato, e guardate un po', doppio minimo, vedete come quante volte questa struttura degli 89 e 40, e 42, scusate, è stato, è stata toccata più volte, perché questo? Perché comunque, ricordiamoci bene che, e ecco perché vi avevo fatto anche questo rettangolo, vedete, questo rettangolo vi avevo fatto quando stavamo già qui, questa era una struttura che il mercato ha sentito molto, perché io vi, vi dico sempre area di prezzo, perché vi dico sempre area di prezzo, perché nelle mie, nelle mie analisi vi dico sempre area di prezzo, perché l'area di prezzo, non è nient'altro che un'area dove il prezzo si è, diciamo, può toccare, non solo un, diciamo, un prezzo solo, ma può toccare un'area, cioè può toccare, perché dobbiamo vederla, vedete anche i spike, cioè dobbiamo vedere perché vi dico area, perché quando io vi disegno l'area, vi disegno una parte, quindi un'area di supporto, dove due o più prezzi, che vanno a coincidere con i movimenti, possono dar adito, per esempio a dei spike, a delle, per esempio a dei piccoli, per esempio ecco qui, per esempio vedete, a delle piccole, per esempio gap, poi ritorno, quindi non si parla solamente di supporto di prezzo statico e basta, io parlo quasi sempre di area di prezzo, dove il prezzo può entrare, quindi una, può essere una buy zone, una sell zone, per dire, vedete come, ad esempio anche qui sopra, vedete perché io ho messo questo rettangolo, come area di resistenza, vedete, io parlo di area, di supporto e resistenza, perché, appunto perché ci sono, il prezzo può breccare, appunto per esempio gli 89, 41 e 42, e può tornare a ritestarlo, quindi questo, questi false rutture, o questi spike che hanno toccato, quindi ci sono state queste, diciamo, questi prezzi, che stanno all'interno di questi spike, danno adito a, ha un'attenzione intorno a quest'area di prezzo, perché se qualora il prezzo dovresse breccare, io non aspetto, se devo entrare al mercato, la rottura solamente di questa, di questo supporto, ma anche, magari, la rottura proprio dell'area di supporto, ok? quindi questa spiegazione tecnica, che comunque esula un po' anche, no, dalle competenze di, diciamo, di analisi, ma anche, entra un po' nella sfera quella della, della formazione, ma comunque sia, sapete che sono, oltre ad analista dei mercati, anche un formatore, no? Mi conoscete questo duplice aspetto, quindi io posso vedere che, il prezzo comunque sta ritestando, la zona di supporto, comunque di prezzo, intorno agli 89,40, e quindi io mi aspetto che cosa, vedete questa compressione di prezzi, guardate, vi elimino per ora un attimo fibonacci di lungo periodo, vi voglio far vedere la situazione di compressione, perché mi interesso molto, è cosa che vi dico sempre nel Wake Up, tutte quante, no? Le mie, i miei interventi su Wake Up America, perché? Perché io mi vado a vedere anche la compressione che ha i prezzi, a parte questo piccolo gap, che diciamo io lo vedo come appunto un falso breakout, quindi tendo a non considerarlo, quindi io considero sempre i prezzi interni, proprio pressoché vicini agli 89,42, quindi i prezzi stanno comprimendo, stanno facendo questo triangolo, diciamo discendente, in più vi voglio far notare anche che la discesa è comunque sia una discesa abbastanza, 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 aspettate che ve lo traccio in mente, abbastanza armonica, perché se io vado a vedere da questa gamba qui, vedete come il prezzo ha toccato, anche qui per esempio si è avvicinato al 127, ma ha toccato sempre prezzi di punte statiche, tipo il 38, il 50, il 61, vedete come il prezzo è sceso, i massimi sono scesi comunque in linea armonica, questo mi fa presumere che ci può essere una continuazione della discesa in questo senso qui. Non solo, dice ma va bene, ma dove può terminare una probabile discesa dell'US index, che è appunto una media, in questo caso io mi metto sinceramente intorno a questi prezzi qui, intorno al 127 e al 141, il Dora l'index è una media di tutti, che io ve lo dico sempre, è una media di tutti i valori, magari ecco chi non mi conosce, di tutti i valori che ha il confronto diciamo con le varie valute in cui il dollaro lo mettiamo a confronto, quindi per esempio dollaro con la sterlina, dollaro con l'euro, dollaro, quindi è un indice che racchiude la media di tutti i movimenti nei quali il dollaro è in contraposizione. Quindi il dollaro vediamo che sta scendendo in linea armonica, quindi mi vado a vedere che il dollaro sta comunque lateralizzando, ma si sta indebolendo. Nell'euro dollaro vediamo infatti la stessa situazione, stiamo sul giornaliero, la stessa situazione armonica che c'è in quello che è il dollaro index, vedete come ricalca il dollaro index a che cosa mi serve? A vedere proprio questo, vedete come l'euro dollaro ricalca l'indice del dollaro e quindi io non vado a prendere magari degli ordini, un'operatività comunque estremamente rialzista, se il dollaro index si sta indebolendo e vedo una situazione di debolimento anche sulla zona euro, perché vi ricordate Draghi non è stato molto esaustivo, non è stato neanche molto positivista tra virgolette negli ultimi giorni riguardo l'euro, quindi ci troviamo in situazione laterale con l'euro e la stessa situazione la troviamo anche per esempio con la sterlina, vedete la sterlina è in situazione di rialzo, ha breccato quest'area che io vi avevo detto molto importante, perché c'è stato questo breakout di questo triangolo che era discendente, sapete che i triangoli possono, anche se sono discendenti, possono essere breccati anche a rialzo, quindi c'è stato questo breakout e sta ritestando che cosa? Quest'area di prezzo qua degli 1,40, scusate degli 1 e... sì, diciamo intorno agli 1,40, ve la metto questa distenza perché almeno vedete bene, intorno agli 1,40 e 330, ma la cosa, aspettate che mi levo il blocco, perché sennò qui, ecco qui, ha ritestato questa zona di prezzo qui, vedete questi spike in cui comunque i venditori sono stati bloccati, scusate, i bullish sono stati un po', il trend è stato bloccato comunque dai venditori, ma vedete anche che sta terminando il ciclo, vedete come le onde, vedete 1, 2, 3, 4, 5, quindi è un fine ciclo, vedete anche perché questo vi dico, perché anche la sterlina sta vivendo un periodo particolare, qui stiamo in un fine ciclo, quindi mi aspetto comunque un ritracciamento intorno alla fascia di prezzo, un ritracciamento intorno a questa magari zona di prezzo, a questo rettangolo qui, non solo, non solo, vediamo come comunque sì, il dollaro è debole, ma anche appunto l'indebolimento anche della sterlina, con una presenza così di un numero, di un prezzo abbastanza, abbastanza solido, mi rappresenta comunque almeno un'azione di ribasso, almeno per il medio periodo, fino a dove lo vediamo, lo possiamo vedere con che cosa? Con Fibonacci, che mi permette di controllare un pochino quello che è un probabile ritracciamento, quindi io magari me lo aspetto intorno tra il 38 e il 61, quindi rispecchia un pochettino anche la zona, questa zona di prezzo, diciamo di lateralità che c'è stata in questo respiro di mercato qui, quindi me l'aspetto sinceramente intorno a questi prezzi qui, intorno a questo prezzo prima magari di vedere una rottura vera e propria dell'1,40 e 330 per arrivare magari ai massimi di lungo periodo, ma ad avvalorare questo, vediamo anche la situazione con il dollaro, situazione anche con lo yen, vedete come la situazione, come i beni di fuggio, quindi l'oro, lo yen sono, vedete come continua a essere, guardate questa bellissima discesa, aspettate, c'è una domanda che mi avete, domande, domande, non vedo le domande, ditemi pure se ci sono domande, perché io in questo momento non vedo la vostra domanda, aspettate un attimo, c'è qualcuno di voi, Lino, hai alzato la mano, dimmi se ci sono particolari cose che ti serve di capire meglio, o qualche domanda da fare, io mi stoppo un attimo, perfetto, tutto ok, vi ringrazio, no, volevo dirti anche a te, comunque, ecco Lino, nel mentre vedo che siete arrivati già in tanti, mi piacerebbe imparare a tracciare il fibonacci, come no Lino, certo, come no, lo possiamo fare anche se vuoi, possiamo anche fare privatamente poi questa cosa qui nei miei webinar, ma poi comunque se il martedì pomeriggio alle 2, comunque c'è anche la Trading Academy che sto facendo, ma comunque se mi lasci poi il tuo recapito, ti mando delle cose per imparare proprio questa tecnica, perché il ritracciamento di fibonacci e l'estensione di fibonacci è molto importante per capire anche come capire il mercato e come andare a sviluppare anche delle, tra virgolette, sia delle soluzioni di visione, diciamo, futura del mercato, ma anche di entry per determinate strategie, quindi se vuoi, come no, se vuoi puoi, ecco, lasciami pure anche in chat privato, ora, un recapito, così almeno ti posso dire, come lo dico a tutti quanti, ti posso fare anche delle lezioni particolari su fibonacci e sul trading con fibonacci, perché ovviamente questo tool è legato anche molto per trovare, per esempio, dei ritracciamenti per il trading geometrico, quindi pattern armonici, eccetera. Per ora vi faccio vedere, per esempio, io fibonacci lo utilizzo per poter trovare magari delle zone di arrivo di prezzo, per esempio, guarda questa zona qui di dollaro, per esempio yen, io vi ho fatto vedere come questa è una zona di lateralità, vedete, che va, ve la disegno ancora meglio, magari con dei valori non approssimativi, ma veri e propri, vedete, per esempio, questa è una zona di lateralità che va da, diciamo, questa zona, ma mettiamo per ora questa, perché è un prezzo abbastanza, lo vedo abbastanza battuto, quindi sui 108, andiamo proprio a, magari a, a metterlo proprio con 108 finito vero e proprio, ecco, così lo mettiamo come zona di interesse, a livello di trend a ribasso, e vedete anche come questa zona qui di prezzo, quindi intorno ai 105, sia una zona in cui il prezzo ha abbattuto, quindi supporto, resistenza, dove il prezzo sta per ora, diciamo, delineandosi verso una vera e propria lateralità. Cosa succede? Che io, a parte che c'è un, vedete, ci può essere anche un trend a ribasso, quindi un triangolo all'interno di questo, no, di questa fase laterale, ma in più, a prescindere dal triangolo, io che cosa posso andare a vedere? Che qualora ci fosse un breakout, per esempio, con Fibonacci io posso vedere, posso dire, allora questo è il mio trend, diciamo, il mio ultimo trend, diciamo, ribassista, no? Quindi ho questa gamba, per esempio, che posso mettere, diciamo, eh no, questa gamba qui, eccola qui, questa gamba, quindi ha ritracciato, anzi, ve lo disegno anche bene con le confluence, vedete, c'è questa gamba qui, che ha ritracciato, al 78%, quindi questo può esserci, magari, un ritorno, verso, verso l'alzo, diciamo, del 78%, se io vado a prendere, quest'altra gamba, vedete, e mi vado a fare l'estensione, di Fibonacci, vedete, posso calcolarmi che, qualora il movimento ancora continuasse, il mio, il mio, diciamo, la mia zona di prezzo, dove potrebbe battere, all'incirca, è tra i 127, e i 161, di Fibonacci, dopodiché, posso anche vedere, una confluenza di prezzo, dove, su, la, diciamo, sulla gamba, per esempio, sull'ultima, vedete, su questa, su questa, gamba rialzista, no, che poi è, che è andata dal, supporto alla resistenza, che abbiamo tracciato, e vedere, quanto, no, quindi, il mio, il mio, Fibonacci, quante confluenze, ci possono stare, vedete che, se continuasse, ci sono, parecchie zone, di confluenza, per il quale, guardate, questa, per esempio, questa zona, di confluenza, molto forte, che sta, tra i 127, e il 141, dei due movimenti, che va, appunto, fino a qui, questa confluenza, guardate, quanti livelli di Fibonacci, ci sono in questa zona, quindi, questa è una zona, di massima confluenza, quindi, se io, se io, vado ad avere, a parte il falso breakout, vado ad avere, un breakout, vero e proprio, quindi, quando ci può essere, un breakout, alla rottura, di questi spike, qui, perché io, per esempio, se, il mio movimento, a ribasso, comunque, ha chiuso, anche se c'è stato, questa chiusura, no, al di, vedete, che è andata, quindi, questo gap, con chiusura, all'interno di questa zona, qui, ma, io non sarei mai entrato, al mercato, perché non c'è stata, una vera e propria rottura, breakout, di questo, supporto, qui, quindi, qualora ci fosse, un bel breakout, la mia prima zona di prezzo, sarebbe questa qui, ok, per adesso, io, che cosa posso vedere, posso vedere l'indecisione, da parte del, per esempio, del dollaro, nei confronti del giapponese, nei confronti dello yen, io vedo solo, questa indecisione di mercato, vedete quante doji, ci sono, che possono presagire, grande, che questo, questo, questa grande zona, di indecisione, per il quale, magari, il prezzo potrebbe ritracciare, magari, intorno, a questa resistenza qui, dei 106, e 50, e 52, quello che è, quindi, penso, quindi, cosa succede, che, io, che cosa vado a vedere, nel breve periodo, magari, mi vado a tracciare, appunto, i bonacci, per vedere, dove, può, dove può, rimbalzare il prezzo, e, io posso, magari, di un movimento, al rialzo, di questa gamba qui, magari, posso vedere, che potrebbe, magari, tornare a rialzo, ritracciare, fino al 61%, quindi, ritracciare, intorno a questa zona di prezzo, per poi, magari, ripuntare, se ancora continuasse, poi, la discesa, nella compressione di prezzi, ripuntare, poi, sul supporto, e, magari, breccarlo, ma, per ora, io non ho, segnali, di breakout, del, dello yen, nei confronti del dollaro, no? Però, io, che cosa ho, nella mia, nella mia, comunque, nella mia, nella mia manica, ho parecchi assi, che sono quelli, del dollar index, che è comunque, indebolimento del dollaro, ho la visione, dell'azionario, dell'economia americana, che è comunque, la volatilità implicita, vi ricordate, che il VIX, non è nient'altro, che una media, delle opzioni, della volatilità implicita, quindi, le opzioni scambiate, all'interno del mercato, dell'S&P 500, cosa succede? Che nel momento in cui, abbiamo una volatilità, che si sta formando, possiamo avere, quindi, l'indice ci dà, che cosa? Ci dà, una maggiore, diciamo, un maggiore segnale, di, di paura, degli investitori, e magari, di un, un iper venduto, che magari, sull'azionario americano, andiamo a vedere, per esempio, anche, il valore, dell'US30, allora, io che cosa, vi avevo detto, guardate un po', questo pattern armonico, che si è venuto a fermare, e io vi avevo detto, guardate ragazzi, questo è un pattern armonico, ribassista, si sta formando, sull'US30, sul quattro ore, guardate un po', che cosa è successo, ma io non è, che sono veggente, è che io posso, leggo il mercato, e vi dico che cosa è successo, vedete come, a questo livello qui, dove si è venuto a formare, questo, eh, Gartley, ribassista, come poi il prezzo è andato, a ribasso, e è andato a fare che cosa? Ah, innanzitutto, ad andare su questa zona, che io avevo detto, di primo, eccolo qui, di primo, eh, prezzo, di quindi, quindi di primo supporto, e di primo target, price, ma per chi, seguisse sempre le mie analisi, su uno sito, o chi fosse il mio corsista, o chi fosse, eh, ecco, chi mi segue da moltissimo tempo, che cosa vi dico sempre, che quando c'è un pattern, ribassista, su un'azione, veramente forte, dei prezzi, il, la, la mia, visione, è comunque, di mettere un tra list off, e andare a ribasso, e cavalcare l'onda ribassista, guardate un po', dove sta terminando, infatti, l'onda, sta arrivando sul 38%, del, del, eh, del trend di lungo periodo, quindi sta ritestando la zona del 38%, ma guardate un po' qui sotto cosa c'è, la zona di prezzo, che io vi ho detto, molto importante, vedete, le mie analisi, come poi vanno a combaciare nel tempo, vedete come il supporto che io vi avevo messo intorno ai 23.945 e tra i 23.945 e i 24.000 all'incirca 3.70, come ancora il prezzo si sta avvicinando intorno a questa zona qui, vedete? Quindi io, eh, quando, eh, ecco, facciamo analisi insieme, io non vi faccio solo un'analisi di mercato, lo è Cap America, non è solamente quello, come lo faccio io, almeno come vedo io il mercato americano, quindi, eh, in generale, come io approccio al mercato, è sempre un approccio sia di mercato, quindi macroeconomico, quindi di aspetto fondamentale, ma l'aspetto quello tecnico ci deve sempre essere, perché noi andiamo a tradare nel mercato con questa forma di operatività, non andiamo a tradare al mercato con la macroeconomia, noi andiamo a vedere il grafico, dobbiamo studiare il grafico per quello che è, vedete come lo US 30, come ha ricalcato anche, guardate lo US 500 sul quattro ore, che cosa sta facendo, sta ritestando, guardate un po' la zona di prezzo che io vi avevo messo, guardate un po' come ricalca sempre la zona di prezzo che io vi avevo messo, come una probabile area di supporto, di forte supporto, ok ragazzi? Quindi, ricordatevi che nel frattempo, nel momento in cui voi andate a testare queste zone, è importante vedere come va il mercato, è importante la macroeconomia, è importante anche cosa sta facendo anche, per esempio, sull'EICAP America, vediamo, sì, diciamo l'aspetto del dollaro, l'aspetto dell'azionario, ma andiamo a vedere un attimo le aziende tipo, Apple, sta andando a ribasso, vedete? sta ritestando la zona, vedete come io vi avevo messo il target price, non so chi mi segue anche sull'azionario, sul mio sito, www.christianciuffa.com, io, chi mi segue sull'azionario, i miei articoli, sul mio sito, su investing, eccetera, vedete come ha ritestato questa zona, adesso è risceso, guardate come, anche con questo butterfly, che c'è stato qui, che è andato sul 127%, e come poi ha ritestato, anzi sul 141%, scusate, per cento, quindi come questo pattern armonico, che io vi avevo fatto vedere, come poi ha ritestato, addirittura c'è stato un gap, e sta andando a ribasso, ecco perché, vedete Facebook, ve l'ho fatto vedere prima, quindi perché io vado a vedere, vado a vedere uno US 30, che sta andando a ribasso, perché le azioni, comunque, e anche su tutto quello, che è diciamo, l'azionario americano, sta andando a ribasso, perché è un momento economico, di ribasso, ma io che cosa devo sfruttare, devo sfruttare la volatilità, di questo mercato, guardate lo US 100, per esempio, come sta, ha avuto questa grandissima candela, e dove è andata a ritestare, guardate un po' questo supporto, che io vi avevo detto, guardate, che se viene rotto questo supporto, qui, andiamo a ribasso, fino ai 6708 euro, guardate, infatti il prezzo lo sta, breccando, questo, i prezzi stanno breccando, bisogna vedere adesso, la candela come chiuderà, poi, siamo sul giornaliero, come chiuderà oggi, però vedete come, sta andando, no, si sta attrezzando, per andare, per arrivare proprio in queste zone, qui di mercato, cioè in questa zona qui, in questa fascia di mercato, vedete come, io vi faccio vedere, sempre, delle analisi, che poi vanno, vanno in contemporanea, a quello che è, il mercato, ma come faccio, ecco, la risposta che do, anche no, all'ino, è proprio questa, cioè, dove, come faccio io a capire, poi, un ritracciamento, dove può, dove può avvenire, con il ritracciamento di Fibonacci, me lo vado a, a vedere, e vado a vedere, che le zone, quelle di solito, di grande supporto, qual è, il 38 e il 61%, mi vado a segnare, perché, perché, Elliot mi insegna, no, anche, aspettate che ho preso, un rettangolo, non volevo fare questo, aspettate, ecco, volevo fare, appunto, un altro rettangolo, e vedete come, questa zona di prezzo, la ricalca, alla grande, eccolo qui, vedete, eccolo qui, va bene, ok, quindi, il mercato americano, ve l'ho fatto vedere, insomma, non è appuntamento, comunque a domani, per quanto riguarda, il tempo è scatuto, quindi a domani, per quanto riguarda, tutto quello che è, il, 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 il trading academy, vi ricordo anche, mercoledì pomeriggio, su, anche, sempre in collaborazione con il TV, io farò anche il, il, il mercato delle commodities, chi volesse scrivere a infochiocciola, chissianciuffa.com, riceverete tutti i vostri dubbi, volete, anche delle, a titolo, gratuito, anche delle, anche delle, delle, delle analisi, oppure volete, segnarvi, scrivervi ai miei corsi, al mio corso mensile, comunque ecco, potete vedere un pochettino, e magari io vi rispondo, in maniera succinta, anche su tutte le domande, anche, che potete farmi, su questa, su queste mail. Benissimo, vi ringrazio molto per l'attenzione, con Wake Up America, si chiude qui la, il nostro webinar, vi ringrazio molto a tutti quanti, ringrazio ecco, Alessio Donato, Fabrizio, Lino, Marcellino, Paolo, tutti quanti, chi, che mi, mi state seguendo da, da parecchio tempo, e, arrivederci quindi ai prossimi webinar. Ciao!